Strano periodo quello che stiamo attraversando. In questi ultimi anni si stanno registrando numerosi casi in tutto il paese che coinvolgono i più giovani in giochi a volte particolari ma sempre rischiosi. Situazioni estreme e azioni adrenalitiche al limite del pericolo. Saltare dai palazzi, attendere il passaggio dei treni sui binari, sono solo alcuni dei nuovi folli riti di iniziazione che stanno circolando tra i giovanissimi. Si tratta di vere e proprie prove di coraggio che i ragazzi portano avanti per realizzare un fantastico video da postare su youtube, per impressionare gli amici o semplicemente per sfidare i propri limiti ma spesso qualcuno ci rimette la vita. Secondo molti psicologi questa bassa consapevolezza del rischio sarebbe in parte da imputare ad una noia crescente che spinge i giovani a cercare stimoli sempre più assurdi. In ogni caso il comportamento di questi ragazzi non è assolutamente da imitare. Anche Fano non sembra essere immune da questo virus. L'altra sera nel quartiere popoloso di Sant'Orso, secondo quanto ci hanno riferito i vertici dei vigili urbani, un paio di ragazzini di età compresa tra i 10 e i 12 anni si sono messi a sfidare le auto in corrispondenza del passaggio pedonale davanti al centro commerciale. Erano distesi a terra o fermi immobili al centro della carreggiata per poi scansarsi all'ultimo istante. Una sfida, un gioco molto pericoloso. Due automobilisti si sono fermati e allibiti, hanno chiamato i vigili urbani che sono prontamente intervenuti con una pattuglia. Un veloce sopraluogo, qualche domanda in giro e la triste realtà è subito emersa. Adolescenti, bambini praticamente che mettono a repentaglio la loro vita per un gioco pericoloso. I vigili urbani assicurano che per scongiurare ulteriori episodi attiveranno presto un servizio in borghese negli stessi luoghi.